Fanti! Professore, buonasera. Buonasera. Signor? Toni Pistolatti, ma credo che abbia prenotato in assenale la linea Spistolatti. Ah, sì, ho prenotazione. Sono il dottor Otto von Katzen. Non è che mi sembra di conoscere la... Mi facevi il psicologo, lei? Io ho fatto dentista, osteria numero 20. Io... Siedi, 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 siedi. Io, professore, mi siedi. Dica. E' che l'olga, mia figlia... Ah, bambina. Bambina che compie 18 anni da bambinosa. Bellissima. 18 anni, bella. Perché lei sono due gemelli. Sì. Maschio e la femmina. Io devo dire la verità. Genitori non si nasce, si diventa. Con l'olga qualche problemino l'abbiamo avuto. Così prima di... Perché era difficile comunicare. Noi, con Ernest... Con... Con Wittner. Con Wittner. Con i figli in giro. E con lui siamo andati bene. L'abbiamo tirata su io al varo, suo fratello, no? Allora lo portavamo a giocare il pallone, lo portavamo alle figurine del pallone, lo portavamo al cinema. L'olga sempre nella sua camera. Non c'è stata maniera introversa, è timida, non esce ma... Anche di è fastidio, eh? Perché tutto sommato è una... E forse... Io sono anche contento perché è di una tale bellezza che se la vado a portare in giro ho paura che vengono sei genitori. Ecco, ora ne sto di più. Mi chiedono dei città, è fio, per conto dello spazzacolo. Vediamo questa papilla. Vediamo questa papilla. E qui... E qui... Siamo mentre la papilla, chiami papilla, chiami. OGA! Ma Filippa si andrà da casa. Oga! hai venuto il sughino? hai venuto il sughino? hai venuto il sughino? c'è un ragazzo che suonava i capelli così strani è buona che bella ragazza quanta gente se l'aspetto? è bella professore mi fanno la visitina non mi fa male adesso lei si deve mi mancava un pittandine professore io esco vado a non andare io pure mi metto di dietro che non vuole vedere niente come non porti le pittandine? come non porti le pittandine? c'è lavata da sotto un po' non porti le pittandine? non porti le pittandine? non porti le pittandine? La tia Ines qui ha detto che è il migliore questo, eh? Senti quello che ho portato a stringa, ma questo va bene. Che spettacolo. Chiediamo lucido come una marmitta. Sì, bambina è tutto a posto. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 vabbè. L'hanno figurato Tricletto, Olga. Olga, non sei una bambina, Olga. Sei demoniato. Vabbè, 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 vabbè. il maccherello della zia che l'ha cercato ma tu anche non sei una bambina te sei un silo oltre te sei venito a fare le tenezioni io non volevo professore mi scusi cosa fa? ma finito professore andiamo a casa andiamo a casa andiamo a casa la faccenda è complicata ha perso anche la gente si è messo i guati di malattie sei un uccetto ecco l'acqua boccandina c'è la febbre Olga ma c'è la febbre Olga ma c'è la febbre Olga sei una roba brutta sei un camion dei calcestrutti che sei? cosa fa? che sei una fossa violata sei una fossa violata sei una fossa violata che sei? te sei l'era sei te non sei l'ora sei l'era sei questo fratello gliel'ho dovuto comprare nuova vedete tu un casco estesito sembra in tattucamera l'ha sgombrata? e questo è molto bravo che quando quanto si cura? ciao sottotitore! l'istintore l'istintore del camion dello zio l'istintore del camion dello zio grazie no ma che sai da febbre l'istintore del camion dello zio segniti dottore lasci perdere ma 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 no ma mi utile palavras scusate la figurazione mi utile ma 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 ecco mil PTSD benigni e TOCC un bel applauso Grazie.